Musica Salve a tutti gentili telespettatori e bentrovati alla consueta edizione del TG di TV6 dall'Aquila. In apertura parliamo di Sanitopoli perché oggi c'è stata l'ultima udienza in corte d'appello all'Aquila sul processo Sanitopoli. Il protagonista è stata la difesa dell'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, condannato, ricordiamo, in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Filippo Tronca Sono sereno, comunque sono un combattente non solo per la mia innocenza ma anche per la trasparenza della vita giudiziaria e politica. Sono una condanna di qualche anno fa, spero che il tempo abbia convinto tutti che forse va cambiato. Un Ottaviano del Turco sereno e combattivo a pochi minuti dall'avvio del processo di appello di Sanitopoli oramai alle battute finali. Il protagonista della nuova udienza è la difesa, oltre a quella di Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi, quella di Camillo Cesarone, suo ex consigliere regionale, condannato a 9 anni, e il suo braccio destro Lamberto Quarta, a 6 anni e 6 mesi. Condanne che il procuratore generale Ettore Picardi, in sede di appello, ha chiesto di confermare, seppure con una riduzione di pena. La difesa continua invece a chiedere la soluzione. E i motivi li ha ribaditi in aula questa mattina al presidente del Collegio dei Giudici, Luigi Catelli, uno degli avvocati di Del Turco, Gian Domenico Cagliazza, nel corso di un appassionato a ringa che ha fatto strame di una sentenza basata a suo dire su fantomatiche tangenti da oltre 6 milioni di euro, versate dal poco credibile imprenditore della sanità privata, Vincenzo Angelino. Sentenza definita un campionario stupefacente di insensatezze, senza nessuna tenuta logica, basata sui soliloqui di Angelini e non su prove e riscontri fattuali. Cagliazza ha dunque ripercorso gli anni cruciali delle politiche sanitarie abruzzesi tra il 2007 e il 2008, ricordando tutti i tagli e principeschi budget delle cliniche private operate proprio da Del Turco, 100 milioni in meno di due anni, e controlli e le ispezioni da Del Turco introdotte sulle fatture messe, fino allora pagate a occhi chiusi. Centrale per Cagliazza la deposizione nel processo di Emilio Di Ninni, ex presidente della commissione ispettiva. Noi ci siamo posti il problema che non emergeva da questo tipo di verifica predisposta, nessun dato che in effetti rindesse diciamo conto delle prestazioni effettivamente eseguite. Cioè c'erano esclusivamente delle fatture, non c'erano degli epiloghi di attività, tant'è che ne abbiamo dovuti richiedere noi alle strutture all'epoca. Appena arrivati abbiamo istituito dei flussi di informazioni, quindi abbiamo chiesto a tutte le strutture di darci il riscontro delle fatture messe. Diciamo, avete fatturato queste cose, ma che cosa avete fatto? E dunque l'aspetto stupefacente e logico della sentenza di primo grado, ha proseguito i ragionamenti illegali di Del Turco, è lo scenario secondo il quale un imprenditore ha continuato a pagare mazzetta ad un presidente della regione descritto come un satrapo affamato di soldi, che però intanto continuava a tagliargli il budget, a passare al setaccio le prestazioni inappropriate della sua clinica. Altro protagonista dell'udienza di oggi è l'avvocato Giuliano Milia, che difende Lamberto IV, Camillo Cesarone e ancora Ottaviano Del Turco. La sentenza d'appello, dopo eventuali controrepliche, potrebbe arrivare entro novembre. E sempre per la cronaca giudiziaria, processo alla Commissione Grandi Rischi, Bis Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, è stato infatti rinviato a giudizio per il prossimo 20 novembre. Sentiamo i dettagli. L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre, nel Tribunale dell'Aquila, nell'ambito del processo Grandi Rischi Bis. Il GUP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo l'ex capo della protezione civile. Quella discussa in sede di udienza preliminare, fa parte di un procedimento satellite che riguarda il filone principale sulla Commissione Grandi Rischi, che ora si trova in Cassazione, e che verrà discussa il 19 novembre, ovvero il giorno prima in cui Bertolaso dovrà comparire dinnanzi al Tribunale dell'Aquila come imputato. Bertolaso, ricordiamo, è accusato di essere stato il presunto ispiratore della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Durante la riunione sarebbe stato dato il messaggio rassicurante relativo all'improbabilità di un forte terremoto, evento che poi accadde il 6 aprile, provocando 309 morti e numerosi feriti. La Procura Generale aveva avvocato il procedimento su richiesta delle parti civili. Secondo l'Avvocato Generale Romolo Como e il sostituto Domenico Castellani, l'accusa verso Bertolaso sarebbe consistita nell'intento di contrastare pretesi e allarmismi per la previsione di un grande evento sismico. Nel Mirino c'è la telefonata tra l'ex assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati e l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Nella telefonata Bertolaso parlava della convocazione della riunione Grandi Rischi con i massimi esperti di terremoti in Italia, come di un'operazione mediatica per tranquillizzare la popolazione. Con questa impostazione della riunione, secondo l'accusa, Bertolaso aveva indotto in questo modo anche gli scienziati partecipanti alla riunione a indirizzare l'esame della questione sulla primaria necessità di evitare allarmismi tra la popolazione e valutare dunque con superficialità il reale rischio di un grave evento sismico, nonché i rappresentanti politici locali e gli organi di informazione, a rassicurare i cittadini sull'inesistente o bassa probabilità di un forte terremoto. Sempre secondo l'accusa, per effetto di queste condotte, le vittime si erano convinte a restare in casa, superando il timore e abbandonando le precauzioni in vista di un evento più grave dopo le numerose e crescenti scosse di terremoto, rimanendo poi coinvolte nel crollo dei propri edifici. E dal Molise arriva un progetto innovativo sempre relativamente al terremoto. Nelle scuole viene chiesta l'inserimento di una nuova figura professionale, quella dell'esperto psicosocio-pedagogico dell'emergenza e della post-emergenza. Le famiglie, intanto, degli studenti del sisma dell'Aquila del 2009 si sono unite ai superstiti della strage di San Giuliano di Puglia dopo la scossa di terremoto in un progetto di sensibilizzazione riguardo al sisma per le scuole. Sentiamo i dettagli. A 13 anni dal crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, in Molise, gli scolari sopravvissuti, oggi adolescenti, e i genitori degli studenti che persero la vita all'Aquila nel terremoto del 2009 si riuniscono a Roma, nella sede nazionale dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tutti insieme premieranno le scuole vincitrici del premio AVUS per San Giuliano di Puglia. Sarà inoltre conferita, allo stesso premio, la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. Il tema del concorso è la prevenzione del sisma. I bambini dell'elementare hanno realizzato elaborati grafici, mentre i ragazzi delle superiori hanno creato dei video e dei cortometraggi. Il concorso ha consentito agli appartenenti all'Associazione di entrare nelle scuole italiane e di spiegare ai ragazzi, con il loro linguaggio, che cosa sia la prevenzione. Proseguiamo nel nostro progetto di parlare giovani, ha affermato Sergio Bianchi, il Presidente dell'AVUS, l'Associazione Nazionale Vittime Universitarie del Sisma. Eravamo convinti prima, e lo siamo ancora di più oggi, della necessità di spiegare alle nuove generazioni l'importanza della prevenzione. Ad esempio, all'Aquila, la comunità scientifica poteva mettere a disposizione della popolazione i risultati degli studi effettuati negli ultimi 30 anni, e questo non è accaduto. La comunità scientifica deve aprirsi alla gente, conclude Sergio Bianchi. Secondo le stime dell'Associazione, a 13 anni da quel giorno, in Italia c'è ancora il problema della messa in sicurezza delle scuole. Il 50% delle scuole non ha certificato di agibilità, dice l'Associazione. Il dato risulta ancora più grave se si rileva in un paese in cui 28.000 scuole su 42.000 si trovano in zone a elevato rischio sismico. E dall'Aquila ci spostiamo ora in Marsica per la cronaca. Vediamo. E' di due morti il bilancio di questa giornata in Marsica. Un camionista dell'Est Europa, TD, di 50 anni, è morto dopo che il camion che guidava si è ribaltato parzialmente a causa del matto stradale scivoloso in un canale del Fucino sulla strada 13. L'uomo, dopo aver tentato di riportare il veicolo sulla carreggiata, a causa di un arresto cardiocircolatorio, è deceduto. Sul posto sono intervenuti il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Avezzano e i carabinieri della caserma di Celano per effettuare i rilievi del caso. Si riaccende così anche la questione della viabilità della piana del Fucino, troppe le morti registrate nei canali. Si ricorda a proposito anche la manifestazione del guardrail umano realizzata dai lavoratori di telespazio. Sempre nella mattinata di oggi, in un paese della Marsica orientale, invece, si è tolto la vita un operaio di 58 anni. Ritrovato privo di vita dai familiari, l'uomo lascia tre figli e la moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Avezzano. E sempre per la cronaca, in Marsica ha minacciato di ucciderla e è estorto ad una donna la quale aveva venduto la sua macchina qualche mese prima 500 euro. Con l'accusa di estorsione, un uomo di origine rumena di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. La vittima, impaurita dalle continue angherie e dalla ripetuta richiesta di denaro dell'uomo, si era rivolta ai militari. Gli agenti, coordinati dal capitano Edoardo Comandè, dopo aver organizzato l'incontro per la consegna del denaro in un parcheggio sulla Tiburtina Valeria, hanno arrestato l'uomo. Ci spostiamo ora in Alto Sangro, dove a Castel di Sangro è stata inaugurata la nuova pista ciclabile. Annunciati anche nuovi finanziamenti per lo sviluppo rurale delle aree interne. Il servizio è di Vestina News. Riparte il turismo della regione Abruzzo a tagliare il nastro di inaugurazione della nuova pista ciclabile Castel di Sangro Scontrone, l'assessore regionale alle politiche agricole di sviluppo rurale, cicloturismo e contratti di fiume Dino Pepe. Assieme al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, al presidente del Gala Abruzzo Italico, Alto Sangro, Domenico Mastro Giovanni. La regione punta sul turismo attraverso dei progetti di innovazione tecnologica. Sì, oggi inauguriamo qui a Castel di Sangro una pista ciclopedonale finanziata dal piano di sviluppo rurale 2007-2013. Investimenti importanti che attraverso i fondi strutturali europei noi riusciamo a fare sia lungo la costa ma anche e soprattutto sulle aree interne. Crediamo molto alle potenzialità delle aree interne del nostro Abruzzo caratterizzate da oltre il 40% di territorio di aree protette, di aree che possono sviluppare attività soprattutto turistiche. Un percorso, quello riservato alle due ruote è costato complessivamente 395.000 euro. La pista che sarà lunga 5 km in totale è stata inaugurata per il primo lotto. A tutti gli effetti alla concretizzazione del nostro piano di sviluppo locale ovvero una serie di investimenti materiali come quello che inaugurano i materiali come la web tv che hanno come obiettivo quello di fare entrare questo sistema locale nel mercato globale attraverso un miglioramento della accessibilità di questo territorio ma anche della sua attrattività come territorio locale in un contesto globale. L'importanza del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro sul nostro territorio? È una specie di motore di sviluppo e quindi una specie di agenzia che mette insieme le migliori forze sia pubbliche che dell'imprenditura privata al servizio dello sviluppo che è competitività e sostenibilità allo stesso tempo. Parliamo ora di cultura. Apertura questa sera della nuova stagione teatrale del Teatro Stabile d'Abruzzo per l'inaugurazione della stagione alle ore 21 nell'auditorium della Guardia di Finanza nell'Aquila si esibirà Enrico Brignano. Il ricavato dello spettacolo di Brignano sarà destinato al progetto Teatro Giovani del Teatro Stabile abruzzese. Naturalmente si può non sottolineare l'apertura di questa stagione teatrale con l'inizio del mandato del neo-presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo Nathalie Dompe. Partiamo ora al rugby infatti per la quarta giornata di campionato di eccellenza l'Aquila Rugby Club va in casa del Rovigo una delle aspiranti allo scudetto una partita importante e difficile sentiamo i dettagli. Si avvicina la sfida di sabato 31 ottobre alle ore 14.30 al Battaglini di Rovigo tra i rosso-blu padroni di casa e l'Aquila Rugby Club. L'incontro che sarà arbitrato dal signor Palladino di Torino è valevole per la quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby. Sarà un incontro difficile per i nero-verdi il Femi Rugby Rovigo è la prima in classifica con 14 punti ed è certamente una delle favorite per lo scudetto. I rodigini vorranno i cinque punti tra le mura del Battaglini da sempre affollato di un pubblico numeroso e caloroso. L'Aquila somatizzata alla beffa finale della partita di sabato scorso contro il Mogliano vuole muovere la classifica dopo i risultati non positivi nelle prime partite della stagione. Sappiamo che sarà una prova difficile dichiara nel pre-gara l'head-coacher Mercier ma vogliamo andare a Rovigo per fare la nostra partita. In settimana abbiamo lavorato bene cercando di analizzare e correggere gli errori commessi sabato scorso. Per quanto riguarda la formazione annunciata dal coach rispetto alla gara con il Mogliano esce di scena l'infortunato Petru Tamba in prima linea che sarà sostituito da Nico Breglia mentre la novità è rappresentata da Marius Sirbe che per la prima volta sarà schierato a terza. Rientra anche Cortes a centro. Intanto ottime notizie per i giovani talenti nero-verdi la seconda linea Ugo Donofrio Aquilano Doc è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana Emergenti che si svolgerà a Parma dall'8 all'11 novembre. Era questa la nostra ultima notizia a me non rimane di ringraziarvi della cortese attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati sui programmi di TV6. Buon proseguimento con la rete. Grazie a tutti.